mi servono a costinitelo? si non lo sai? no no ma l'era questa luce inizia lì è un'aria di esce lì è presa E' solo il tene, lì è per intrattezza del tene. Sì. Il tene ne fa il giro di lì perché non posso andare dietro. Sono veramente belli di fronte. E quelli italiani in particolare. Però è alto questo. Siamo campioni del tene. Cinesi no? Cinesi no. Sono carnosi, ci sono. E' vero. Però è vero. Questi giochi qua sono gli unici. Sono gli unici. Speri che hanno chiuso la strada. Infatti qui sono fatti i mondiali. Sì, sì. Ma ci sono stati da poco. Ah, ci sono stati da poco i mondiali. Ma ci sono stati da poco i mondiali. Sono stati da poco i mondiali. E' vero che questi fanno il muro e spaventano gli animali e tutto il resto. Però è un altro punto. Non lo hai rispetto a te. E' vero. Non lo hai visto. E' vero. 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 Ci hanno chiesa. Fermata in questa strada. Mi ha chiesti di sensi per la partita. Noi sì sì sì. C'è sì 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 sì. Grazie. 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 Ma stavolta a me è stato spellato. Ma li fa il comune o li fa il Vaticano? O li fa il Cervanitano. Questo li fa la parrocchia qui a San Paolo. A San Paolo? Eh sì. Il Vaticano insomma. Ma li fa il comune. Erano quelli di là quelli del comune. Quelli che sono già finiti. Un'ora fa. Che li facevano a Castel Sant'Angelo. Perché li fanno a Castel Sant'Angelo. Ah bello questo. Bellissimo. Bellissimo. Questo è. Bellissimo. Questo è. E morire un quarto d'ora che ti mette. Beh almeno 100 euro. Eh ma questo è. Eh ma questo è. Bellissimo. Sì ma parteciperanno tutti quanti. Quanto in questa zona. Ognuno che si autotassano volettieri per questo. No. 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 Ah. E' un'altra cosa che mi rispetto è che parlo davanti a San Paolo, parla sempre di concerti, e c'è anche la figura di un attimo di concerti, se ti dimenticavo di dirlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.